la partenza con freddana gius lungo la corda all'esterno Ilaria Zuei poi Guayana Club con Ilaria Zuei che cerca di andare su freddana che però è al comando poi Guayana poi captain Deymar che punta dritto dopo partenza un po' incerta freddana gius battistrada Ilaria Zuei seconda captain Deymar che cerca di andare a sfondare su freddana gius che comunque ancora al comando captain Deymar da un allungo e passa dopo 500 metri in un velocissimo 33 e 9 captain Deymar al comando freddana seconda poi il numero 11 Ilaria Zuei davanti a Guayana Club Herman Trio all'esterno sposta il colino di Falco che si trascina Evaristo Rum Cavalli davanti alle tribune per il passaggio con captain che cerca di rallentare nei confronti di freddana arriva il colino di Falco che va ad accompagnare come da consuetudine ha spostato anche Conan B 900 da 1.134 captain Deymar fa andatura il colino di Falco lo va ad affiancare lì sotto freddana Evaristo in schiena Ilaria Zuei che corre chiusa i primi 1100 vanno via da 1.147 al chilometro e captain Deymar cerca di tenere fieno in cascina per l'allungo finale captain Deymar che controlla il colino di Falco che cerca di resistere all'argo ma non è facile perché captain Deymar